Fondamentali. Secondo punto. Secondo punto. Sono sulla linea di tiro, ho già fatto il mio posizionamento, ora sono con l'arco, devo incoccare e fare lo string. In questo modo. Durante questo movimento, nell'incocco e nel fare lo string, che sono gesti automatizzati, che sono sempre identici, essenzialmente sempre identici, in questo momento per me avviene la visualizzazione, importantissimo, fondamentale nel tiro con l'arco. Anticipo tutto il gesto che andrò a fare in pochissimi momenti. Ne rilievo le sensazioni di un bellissimo tigro, quello del 10 sicuro. Vuoto leggermente l'arco in questa posizione e vado a fare lo string con perfetta e pignola misura. Faccio lo string. E sono pronto per tirare. Questo è il secondo fondamentale.